Qua possiamo fare il pulsante della guarigione Quindi ragazzi, oggi cerchiamo di andare, se non vi ricordate, da quell'altra parte Perché dietro quel vulcano c'è un altro passaggio che non so dove possa portare Ma la cosa più importante ragazzi è quella di trovare sia il monumento e di completare la prima intersezione L'altra volta siamo andati da questa parte e abbiamo trovato la morte Oggi andiamo, bella di qua, dopo questo accolano della lava E... what the fuck? Dove c'è? Aiuto! Ok, stavo già per morire Comunque, cerchiamo di scendere, pescare Eccoci qua ragazzi, e what the fuck? Una chest Cosa c'è qua? Ah, dungeon 4, halls of flame Sud, and il dungeon 3, nord Ok, guardiamo qua dentro la cosa c'è E troviamo delle arenaria, della sabbia, delle librerie che potrebbero servire per l'enchantment E... boh, dei blocchi Andiamo a esplorare un pochino questi dungeon Nella speranza di trovare una chest con qualcosa di positivo Eccola c'è qua, velocità Che... e poi ci sono anche queste altre tipologie di pozioni Che prendiamo giusto per vedere cos'è Quindi c'è rigenerazione, rigenerazione, salute istantanea e salute istantanea Io mi berrei questa qua Ok, mangiamo della carne marcia E cerchiamo di andare avanti qua Cosa c'è? Ok, qua c'è una tomba E... sotto c'è... uh, aspetto di fuoco Wow, mamma mia ragazzi, che potente E poi abbiamo un piccone efficienza 5 ragazzi What the fuck Che... che... che culo ragazzi Che culo, vediamo come si presta Mamma mia ragazzi Siamo veramente potenti adesso Adesso basterà correre per il dungeon senza morire Quindi torriamo Mamma mia Potente Ok E andiamo avanti Uccidendo un paio di mobs Ok ragazzi Adesso potrei anche poter andare Ah, aiuto Aiuto Gast Gast Creeper Aiuto Ok Potrei andare a... possiamo dire... fare il primo dungeon Potremmo pulire la lana bianca E mettere la lana nella chest Quella iniziale Tac Quello che non ci serviva è stato bruciato E... adesso aiuto un creeper Creeper schifoso Ok, dai da parte Sì, bravo, ho fatto esplodere Tu sì che sei una persona brava, intelligente Va bene E... sì, razzismo per i creeper E cerchiamo di shottarlo Uno Due Tre Ah, va bene Beh, la mia mira Devo dire che è l'unica cosa che ho di potente Per adesso Qua Possiamo fare Pulsione della guarigione Un cazzo di creeper mi ha fatto esplodere No Polto cazzo No, 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 no Ragazzi Devo andare assolutamente A prendermi la mia cazzo Di armatura Ok, anche la guarda Spero Che non l'abbia visto E non sia Possiamo dire invisibile Dato qua c'è Cosa c'è? Ma porco cazzo Porco il cazzo Porco cazzo Porco ecco Porco demonio Porco Merda Almeno Sono riuscito a Fare Esplodere Esplodere A far esplodere Ma sì Ma vai a cagare Eh tu Schifoso Ma dove spavano adesso? Boh Comunque Adesso Dovrei cercare Di scendere Però Come faccio a scendere Bella domanda Forse Boh Intanto andiamo giù E andiamo A prendere Sì sì ok Ok Corri Perché non corre? Schifoso Animale Muori Muori Morite Morite Morite, amorite, amorite, morite, morite. Ragazzi. Che situazione di merda. Ok. Oddio. Muori, muori, muori. e via mamma mia che fortuna tu muori immediato ma muorici ok comunque i creeper spawnano la ciao e vediamo se io rompo questa parte qua ok potrei usufruire di questi blocchi e potermi fare un pillar dopo però per adesso sono abbastanza nella cavola quindi al massimo mangiamoci tutte le rotte in flash che possiamo dire abbiamo ricavato dal dai zombie però ragazzi per quanto riguarda questo appuntato possiamo dire che basta quindi vi ricordo di mettere un mi piace un commento ed iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti andate a vedere i miei precedenti video per avere uno spoglio in più quindi da qua è tutto un becino di vita e ci vediamo questo video bella ragazzi e il ragno bastardo ciao che la fatata ciao ciao